Buonasera, sembra ormai ufficiale in Zaghi, sarà il nuovo aleattore dell'Inter, fino alle 18 aveva firmato con la Lazio, aveva la penna in mano, ma poi qualcosa è cambiato e ora sembra che abbia la penna nell'Inter, da Roma a Milano non so come abbia fatto, però sembra che abbia firmato con l'Inter, sia per firmare con l'Inter, lì con la penna, ha buttato quella della Lazio e ha preso quella dell'Inter, io ho solo una cosa da dire, non esiste più il calcio di una volta, quello che sono cresciuto io, che non sono i giocatori che hanno attaccato la maglia, ma anche gli allenatori, che pur di non fare figure, figuracce, piuttosto non allenavano se facevano un anno sabbatico, ditemi voi, ciao, buona serata.